Il 19 maggio, davanti alla scuola Falcone Morvillo di Brindisi, esplode un ordigno artigianale che uccide la sedicenne Melissa Bassi. 11 agosto, alle Olimpiadi di Londra, Carlo Molfetta vince la medaglia d'oro nel Taekwondo, primo all'oro per l'Italia in questa disciplina. Due storie legate da una città, Mesagne. Qui sono nati Melissa e Carlo, e la ragazza che non c'è più, l'atleta ha voluto dedicare la propria vittoria. Ho dedicato la medaglia a Melissa, in quanto credo che non debba essere dimenticato quello che è successo. I genitori hanno voluto incontrarmi per ringraziarmi, quindi è stato un incontro privato dove appunto mi hanno ringraziato per il gesto e si sono commossi per quello a cui ho pensato. Mezz'ora di colloquio riservato in cui papà Massimo e mamma Rita hanno voluto dire grazie a Carlo per il suo gesto. Per noi è motivo di orgoglio, ha detto Massimo Bassi, ne siamo onorati. Carlo Molfetta il giorno dell'attentato era in Corea, ma presa la notizia il suo cuore è subito volato la terra d'origine. A Mesagne, una città chiamata a fare memoria della morte di Melissa e a ritrovarsi forte e unita. Spero che la gente non dimentichi quello che è successo e spero più che altro che Mesagne, disegnata come una città malavitosa, possa rialzarsi e prendere il suo cammino perché Mesagne non è quello che si dice o che si è detto in questi tre mesi.